La gara tra Trasimeno e la Subasio finisce con la vittoria di quest'ultima per 2 a 1 al termine di una gara brutta e vivacizzata solo nei minuti finali della gara. Trasimeno, ultima in classifica in casacca giallorossa, che non vince dal 10 dicembre, cerca punti pesanti con la Subasio, Maglia Bianconera, che è la squadra più in forma del momento e che non perde dal 3 dicembre, per una gara che è di fondamentale importanza padrone di casa decimate dalle assenze, come quelle di Micheletti, Castro, Bazzucchi, Miccio e Brescia, mentre la Subasio è alla gran completo, dirige Emanuele Damiani di Sondrio, coaduato da Santarelli di Gubbio e Menichetti di Orvieto. Con le immagini di Roberto Siena andiamo a vedere le fasi salienti della partita. Pronti e via, già al secondo minuto, episodio da Moviola, quando Pantaleoni ha contatto con un difensore locale, cade a terra con l'arbitro che lascia proseguire tra le proteste dei giocatori bianconeri. Sono gli ospiti a fare la partita con i locali sulla difensiva, ma pronti a replicare di rimessa. E proprio su un'azione di contropiede che al dodicesimo la Trasimeno passa in vantaggio, grazie a Guazzaroni che salta il suo marcatore per poi trafiggere il portiere Catarinelli, con un preciso tiro. Fatica la Subasio ad organizzare una reazione degna di questo nome, anche perché la Trasimeno, galvanizzata dal gol, riesce a dosporci senza troppo soffrire, chiudendo tutti gli spazi. Alla 43esima opportunità per il pari per gli ospiti, quando Speranza si aggiusta il pallone per il tiro, obbligando Montesi ad una difficile parata. Di lì a poco finisce il primo tempo, con la Trasimeno in vantaggio per una rete a zero. La ripresa inizia con in campo gli stessi effettivi e con la Subasio protesa in avanti alla ricerca del pari, ma con la Trasimeno sempre pronta a chiudere tutti gli spazi, così all'ottavo minuto sono i locali a rendersi pericolosi con Guazzarone, che cerca un gol spettacolare ma che non inquadra lo specchio della porta. Al tredicesimo opportunità per la Subasio, quando Ricciolini viene a trovarsi vicino al portiere con l'arbitro, che però fischia un fallo a favore del numero uno locale. Al quindicesimo ci riprova ancora Ricciolini, ma il suo diagonale finisce di poco sul fondo. Con il passare dei minuti aumenta la pressione degli ospiti, ma la mancanza di lucidità complica le cose favorendola Trasimeno, che con grinta e lucidità riesce a non rendere pericolosa la squadra avversaria. Al trentanovesimo però la Subasio trova il gol del pari. Lo realizza Colombi con un calcio di punizione da 30 metri che beffa il portiere, non immune da colpe. Passano due minuti e la Subasio ribalta il risultato. Lo sigla ancora Colombi su cross di Kribek. Gol che manda in visibilio la propria tifoseria. Nei ristanti minuti la Trasimeno prova a reagire, ma al secondo minuto di recupero è la Subasio ad andare vicino al terzo gol con un tiro di indedi che finisce sulla traversa. Finisce dunque la partita con la vittoria della Subasio, che con questo successo continua ad incalzare la Bastia. La Trasimeno invece da parte sua perde questa partita, dove fino a pochi minuti la vedeva in vantaggio e dove stava assaporando questo successo. Invece nei minuti finali Valdini Ficatundo, tutto non riuscendo nemmeno a contenere il pareggio che avrebbe comunque meritato. Sì, diciamo che è una partita un po' rocambolesca, una partita difficile ma lo sapevo, io ho detto ragazzi, queste sono le partite più difficili. Abbiamo contato una squadra che si è difesa bene, tutti dentro la metà campo, dietro la linea della palla, nella faccia trova spazi. Il pericolo nostro era qualche ripartenza, su quello è il primo tempo che abbiamo preso un gol, su una ripartenza dove andavamo prenderlo, perché queste partite se non riesci a vincere non devi perderlo. Dopo stati bravi e anche fortunati, ma crederci fino alla fine, dove abbiamo fatto questo doppietto di Dario. Però abbiamo avuto il merito di crederci fino alla fine. Se fosse stata una partita perfetta l'avremmo portata diciamo fino al cinquantesimo. Purtroppo, come ho detto ragazzi, le partite terminano con un ampio recupero, quindi cinque minuti di, possiamo chiamarlo un pochino, blackout finale. Non possiamo permettercelo, soprattutto per il momento, però una partita che tutto sommato ci toglie punti, però ci dà tanto altro.